L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee, state per arrivare ai confini della realtà. Sì? Il Maggiore Kucchenko? Chi è che parla? Lei è il Maggiore Kucchenko, vero? Con chi sto parlando? Maggiore, lei non mi conosce, ma ho sentito del suo recente arrivo qui e volevo farle sapere che ha degli amici. Con chi parlo? Anche lei è un amico, forse? Sì, un ottimo amico, Maggiore. Lei ancora non mi conosce, ma avrà presto l'occasione. Le devo chiedere di non lasciare la sua stanza. E? Perché? Perché dovrei rimanere nella mia stanza. Vedrà, la contatteremo presto, Maggiore. La sua incolumità ci sta molto a cuore. Ora, Commissario. Maggiore, posso contare sul suo buonsenso? Per la sua incolumità resti dov'è. Vedrà molto presto i suoi amici. Arrivederci. Ora, Commissario. La volpe è in trappola. Se voglio da questa distanza, posso fargli saltare la testa. A lei piacerebbe molto, giusto? Moltissimo, signor Commissario. Mi dica quando. Io posso colpirlo alla testa, anche se si sdraia sul letto. Sì, ci credo, Boris. Conosco le sue capacità. Metta via la pistola per un po'. Metterla via? La metta da parte. Come? Non lo uccidiamo più? Ah, l'impazienza dei borghesucci. Non sorseggiano il vino. Lo traccannano come fosse una bibita. Le donne non le coccolano, le divorano. Non annusano l'essenza di un profumo raro. No. Cercano di premerlo nelle narici. Boris, quel signore morirà, certo che morirà. Ma io voglio che muoia con astuzia, con ingegnosità. Un tocco di classe. Insomma, una bella morte. Io non sapevo che esistessero una bella morte e una brutta morte. Una bella morte è una morte artistica. Una brutta è una morte da macellai. Lei, Boris, è un macellaio. Io sono un artista. Stasera avrà il suo morto, Boris. Entro poche ore. Ma uccideremo con modalità artistiche. Non con una mannaia o una pallotola esplosiva o altri mezzi da macelleria. No, no. Questa morte sarà come un balletto. Vi presento il nostro cast. Un gatto e un topo. Ecco il secondo. La vittima forse sa o forse no che sta per morire. Che sia per opera di un macellaio o di un artista. Si tratta del maggiore Ivan Kuchenko. Se le cose andranno secondo certi piani, gli rimangono più o meno quattro ore di vita. Ma sia la vittima che il suo carnefice non sanno che cosa li aspetta. Ormai entrambi hanno...